Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Ho voluto fare questo video appunto per analizzare, commentare il sondaggio che ho fatto qualche giorno fa per quanto riguarda a livello estetico quale personaggio ti sembra meglio realizzato in Silent Hill 2 Remake. Ebbene, intanto vi ringrazio per la quantità di voti, siamo a 105 voti in tre giorni, non è male, non è male, devo dire. Quindi con un numero di voti così alto, insomma, il risultato è piuttosto interessante, insomma. Andiamo quindi ad analizzare i risultati al momento. Abbiamo James con 39% di preferenze. Abbiamo poi Eddie con 27%. Angela al terzo posto con il 18% e subito sotto Maria al 16%. Allora ragazzi, partiamo dal vincitore che è James, ovviamente è il personaggio che si vede di più nel gioco, quindi abbiamo modo, secondo me, di osservarlo bene, lo vediamo in tanti filmati, lo vediamo sostanzialmente sempre appunto perché è il protagonista che guidiamo nel gioco. E quindi ci può stare, cioè è vero che da una parte è quello più usato, però effettivamente se facesse schifo non sarebbe, non avrebbe riscosso così tanto successo nel sondaggio. Devo dire che mi trovo d'accordo, d'accordo, anche se devo dire che il mio preferito, non potendo votare perché sono il creatore del sondaggio, io avrei sinceramente votato Eddie. Eddie non lo si vede spesso, considerate che io sono arrivato al livello... Tra l'altro vi dico, venite a vedere la live oggi pomeriggio alle 16 perché continueremo. Sono ancora all'ospedale nella parte dell'Otherworld, quindi non è che ho visto ancora tutte le cutscene eccetera. Però devo dire che secondo me effettivamente se la gioca James è Eddie. Io avrei votato Eddie, vi spiego perché. Beh, concludiamo con James e devo dire che il personaggio è fatto molto bene, è molto ben caratterizzato a livello estetico, mi piacciono molto le cutscene dove appunto lui è protagonista, ha una più che buona recitazione, ma devo dire che, ripeto, la mia preferenza va a Eddie, ragazzi. Eddie, anche se l'ho visto ancora poco, ma dai trailer, dalle cutscene che si vedono in rete. Ragazzi, io credo che siamo quasi a livello di fotorealismo. C'è una differenza netta di realizzazione fra Eddie e tutti gli altri, secondo me. Eddie è caratterizzato in una maniera incredibile, ragazzi. Sembra una persona vera, ha questo sguardo perso nel vuoto, insomma noi sappiamo appunto le motivazioni, ma devo dire che a livello estetico è realizzato benissimo. Credo tra i personaggi più belli a livello visivo, che abbia visto recentemente negli ultimi anni in un videogioco. Veramente, veramente ben caratterizzato. Quindi Eddie sarebbe stata la mia preferenza. Poi, incredibilmente, al terzo posto abbiamo Angela. Angela, la tanto bistrattata Angela, scavalca addirittura Maria nelle vostre preferenze. Angela è stato un personaggio, parliamo sempre a livello estetico, molto divisivo. Il paragone, ovviamente, con il gioco originale è d'obbligo, è d'obbligo in realtà con tutti i nuovi personaggi realizzati. Però, mentre James e Eddie sono praticamente molto molto simili agli originali, se non ancora di più migliorati, Angela è effettivamente il personaggio divisivo, perché è molto diversa dall'originale. Nell'originale avevamo una ragazza molto sciupata, molto devastata dal trauma che ha subito, mentre qui abbiamo un personaggio che è più in carne sicuramente, non sembra a livello estetico così patita come era Angela, però tanti hanno ipotizzato che possa soffrire di bulimia, che sia appunto una ragazza un po' ciubi, che mangi un po' troppo, cioè quindi che magari lei si sia rifugiata nel cibo, ma queste chiaramente sono teorie, dopo insomma quello che le è capitato in Silent Hill 2. Io devo dire che la apprezzo abbastanza, non ho trovato tutto sto clamore negativo che tanti hanno rivolto verso di lei. È sicuramente un personaggio diverso. Se noi non avessimo visto l'Angela del gioco originale, secondo me avrebbe avuto un impatto maggiormente positivo, però è chiaro che non possiamo insomma non fare il paragone con Angela del gioco originale. Fra le due devo dire che anch'io forse preferisco l'Angela del gioco originale, però ciò nonostante devo dire che anche questa versione di Angela, anche unito al fatto di una più che buona recitazione, devo dire che non mi è dispiaciuto. Fanalino di coda è Maria, ragazzi. Maria che evidentemente si lega ancora un po' troppo al personaggio originale, c'è una distinzione però secondo me da fare. Sono due Maria molto diverse fra loro, devo dire proprio molto diverse a livello estetico. Innanzitutto la Maria originale era molto più tetra, molto più oscura, quasi diabolica, mentre in questa versione abbiamo una Maria più umana, più realizzata secondo me, in modo da essere tra virgolette una magliatrice nei confronti di James, più che una persona oscura che voglia portarlo da un'altra parte. Anche in questo caso Maria cerca di portare James a non fargli ricordare quello che ha fatto e di andare via con lei, che è un'illusione, è resa più umana, più ammagliatrice, più seducente. L'altra Maria secondo me era, tutto si buttava nell'ombra, nell'oscurità del personaggio. Devo dire che questa Maria incredibilmente mi piace un po' di più. Mi piace un po' di più perché svolge appieno il compito per cui è stata creata, cioè sedurre e far dimenticare a James quello che ha fatto. Credo che fra le due versioni questa sia quella che assolve di più il compito. Esteticamente è molto più bella, secondo me. È vero che c'è stato il discorso della critica sul vestito che ha, che sarebbe un vestito un po' più coperto, che lascia trasparire meno la sua femminilità rispetto all'originale. L'originale era un outfit sicuramente più audace di questo. Ciò nonostante, lei mantiene la sua femminilità, potete vedere come sculetta, come cammina in modo sensuale. Quindi devo dire che da una parte è stata messa sta giacchina un po' più costrittiva, dall'altra secondo me il personaggio nelle movenze, cosa che non era possibile evidentemente ai tempi del primo gioco, del gioco originale. Non era possibile fare tutti questi ammiccamenti, questo modo di camminare, eccetera. E poi devo dire che la recitazione è davvero molto buona. Credo che Maria sia il personaggio che a livello recitativo, ripeto però devo ancora vedere tutto il gioco, a livello recitativo sia quella che risulta migliore, e ha un impatto visivo migliore rispetto agli altri. Anche Eddie, devo dire. Però Maria mi ha colpito, proprio a livello recitativo è molto molto brava. L'attrice che è stata scelta è stata molto brava, secondo me molto azzeccata. Certo non abbiamo il fascino di Cameron Diaz del primo gioco, però, ripeto, questa Maria mi è piaciuta un po' di più della versione originale. Questo è quanto ragazzi. Vi rinnovo ancora il... Vi invito a seguire la mia live alle ore 16 e vi invito a commentare. Vi aspetto nella sezione commenti, dite la vostra. Grazie, ci vediamo un prossimo video e una prossima live. Ciao, ciao, un abbraccio.